Ciao a tutti, sono Nicola, faccio parte del Nordest Brick e qui a Brick Asia ho portato un diorama Fantasy Castle. Questo diorama è un 3 metri per 90, formato da un castello principale, naturalmente con tutte le mura, un po' di vegetazione, un po' di villaggio, situato con due situazioni diverse. Nella parte davanti abbiamo un attacco di una nave troll, con un piccolo sbarco sulla spiaggia, un paio di cavalieri che ci vanno intorno, i draghi. Dopodiché andando avanti dentro il castello abbiamo un po' di vita, quindi praticamente cavalieri, personaggi vari che girano, maghi. La vita del castello poi prosegue nella parte dietro. La parte dietro abbiamo un maniscalco, chiamiamolo così, una piccola locanda molto, molto fantasy. Molto fantasy, poi abbiamo la parte murale, con dietro un'altra situazione, chiamiamola di cattivi. Di cattivi tipo mondo fantasy, quindi in questo caso gli scheletri, che dal loro mondo cercano di invadere questo castello. Altre piccole situazioni le abbiamo appena fuori le mura, un piccolo laghetto con due innamorati, chiamiamoli così, oltre al logo Neb, che non può mancare in ogni diorama, ed una piccola statua del Cavaliere Nero. Questo diorama non è in espansione, questo per me è finito e avrà vita fino a fine anno, dopodiché dalle ceneri di questo ne sorgerà un altro. Sempre a tema fantasy, castell, magari con qualche novità. Vedremo. Questo originariamente era un castello del set Lego, dopodiché è stato modificato aggiungendo un altro set che vedete qui davanti, la giosta medioevale, e poi lavorandoci un po' a fantasia, cercando di, senza partire con un progetto ben preciso, ma il risultato è abbastanza apprezzabile. Modifiche se ne possono fare ancora, però diciamo che da come siamo partiti il risultato è più chiaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.